Amici di giornale.sm, siamo qui con Giacomo Agostini, Mr. App, per Audi TT Virtual Tour. Due parole, Giacomo. Ciao Marco, ciao a tutti i lettori di giornale.sm. Audi e Mr. App hanno sviluppato questo progetto per i Google Glass, dedicato alla scoperta di tutte le novità introdotte dalla casa Audi sul nuovo modello Audi TT. Indossando i Google Glass sarà infatti possibile scoprire tutte quelle che sono le novità apportate dall'abitacolo, al design, al motore, alla carrozzeria, eccetera. È interessante perché in pochi minuti si può scoprire esattamente quello che c'è di nuovo da sapere su questa fantastica vettura. Quindi degli occhiali che ti fanno vedere come sarà la nuova Audi TT. Esatto, esatto. Spiegano esattamente tutto quello che è stato introdotto nel nuovo modello della super sportiva di casa Audi, il terzo modello della sua generazione. Un'applicazione, Mr. Apps, giusto? Esatto, esatto. Siamo stati fra i primi in Italia di usare Google Glass, sul regalo di Google, e siamo ora tra i primissimi aziende, forse non solo in Italia ma in Europa, ad essere riusciti a sviluppare qualcosa per questa incredibile tecnologia che sarà sul naso di tutti nell'arco di probabilmente uno, massimo due anni. In bocca al lupo per il futuro. In bocca al lupo. in bocca al lupo per il futuro. In bocca al lupo per il futuro. Grazie a tutti.